Il 5 maggio 1995 siamo all'Università Nazionale di Bogotà, sono ore 16.30. Gloria Polo e suo cugino di 23 anni, anche gli dentista, stanno studiando per prendere la specializzazione. In quel giorno, che era di venerdì, intorno alle 16.30 h, camminavano insieme con il marito di Gloria verso la facoltà di odontoiatria, per cercare alcuni libri di cui avevano bisogno. Camminavano sotto un piccolo ombrello, mentre il marito indossava un impermeabile e per ripararsi meglio camminava lungo la parete della biblioteca generale. Gloria e suo cugino saltavamo da una parte all'altra per evitare le pozzanghere, avvicinandoci così agli alberi. Mentre ne saltavamo una piuttosto grande, un fulmine li colpi, e li lasciò carbonizzati. Il cugino morì sul colpo. Il fulmine entrò dalla schiena, bruciandolo dentro completamente, e uscì dal piede, lasciandolo intatto all'esterno. Nonostante la sua giovane età, era un ragazzo molto religioso. Aveva una grande vozione per Gesù bambino e il fulmine entrò dal braccio di Gloria Polo, bruciando spaventosamente tutto il corpo, sia fuori che dentro. In pratica sparì la sua carne. I seni completamente bruciati, specialmente il sinistro, al posto del quale rimase un buco. Il fulmine bruciò inoltre le gambe, le costole, carbonizzò il fegato, bruciò gravemente i reni, i polmoni, le ovaie e uscì dal piede destro. Gloria Polo usava la spirale e poiché il materiale di cui è fatto, il rame, è un buon conduttore elettrico, il fulmine carbonizzò e polverizzò anche le ovaie, che diventarono come due acini d'una passa. Rimase in arresto cardiaco, praticamente senza vita. E ma improvvisamente, gli organi ripresero a funzionare. I polmoni, il fegato e anche il cuore ricominciò a battere con forza. Potete immaginare lo stupore dei medici. Cominciò così la recupero fisico, e dopo un mese i medici le dissero. Gloria, Dio sta facendo un miracolo con lei, perché le è già ricresciuta la pelle fine su tutte le ferite ma per le sue gambe no, possiamo fare più niente. Dobbiamo amputarle. Gloria pensò solo di fuggire da lì, ma non ci riuscì, perché le gambe non la reggevano, e cadde. E adesso, vedendo le sue gambe nere, bruciate, senza carne, per la prima volta ringraziò Dio di averle ancora e disse. Signore, ti ringrazio per le mie gambe, e ti chiedo la grazia di lasciarmele, perché io possa camminare. Ti prego, Signore, lasciami le gambe. Questa fu la preghiera di Gloria e ecco che cominciò immediatamente a risentire le gambe. Erano nerissime, senza circolazione, e dal venerdì al lunedì, quando arrivarono, i medici rimasero sorpresi, perché erano rosse e la circolazione si era ripristinata. Stupefatti, la toccavano e non ci volevano credere. Gloria disse loro. Dottori, le mie gambe mi fanno terribilmente male, ma credo non ci sia nessuno al mondo, così felice di sentire dolore alle gambe, come lo sono io in questo momento. Il medico del settimo piano le rispose che mai, in 38 anni di servizio, aveva visto un caso simile. Gli altri due miracoli che il Signore le fece, furono il seno e le ovaie. Il medico le aveva detto che non avrebbe più potuto avere bambini. Ma, un anno e mezzo dopo, vide che il suo seno comincia a crescere, a gonfiarsi e a riformarsi. Rimase meravigliata, e quando andò dal medico, le disse che aspettava un bebè. È con quel seno all'atto sua figlia. Questa è l'incredibile storia di Gloria Polo. Il racconto pur essendo un po' romanzato è assolutamente vero. Questi sono i referti dei medici e questo il sito dove potete trovarli. Sfido chiunque a dare una spiegazione scientifica a questo caso.